Ciao a tutti, ciao ai nostri telespettatori. Questa sera noi ci vediamo lassù in alto, quindi ogni tanto ci vedranno guardare in alto. Siamo in cielo. Senza la televisione non potresti fare niente. Una televisione, una scatola, ed è una scatola magica che c'è in tutte le famiglie. La accendi e da casa ti vedono e diventi popolare. Bella piazza, perfetto, ok. Diventa popolare e diventa chiunque. Basta apparire. Io ti vedo queste persone. Io mi parla, io ti vedo. Se si dice famoso perso, si diceva. Io suöare money. Non perso. Io suöare business. Quindi, io sono trevando i chiari, take out from the rich guy but they don't give it to the people they give it to me this is modern form of Robin Hood